che squadra l'Inter, che squadra, fanno paura, fanno paura, il collettivo dell'Inter fa paura vincono anche questa, vincono anche a Bergamo, stadio difficile da affrontare e vanno lì e testa dura, muso duro, Lautaro Martinez e Ciaranoglu che segnano i golli decisivi per questa vittoria del Nerazzurra l'Inter che sbanca al Genwist Stadium e vince 2-1, partita non scontata ma l'Inter dimostra di essere una squadra superiore a tutti Ciao ragazzi e bentornati in questo video, qui è già per oggi, siamo venuti qui ragazzi in un nuovo video quindi è già per scomentare e commentare il post partita di Atalanta-Inter che finisce sul risultato di 1-2 per i Nerazzurri che sbancano e portano ancora a casa 3 punti in uno stadio difficile come quello di Bergamo, il Genwist Stadium e vincono 2-1 prima di tutto ciò mi raccomando un mi piace per supportare questo video un commento ditemela vostra cosa ne pensate di questa Inter che fa veramente una macchina da gol è stata una partita comunque equilibrata, ci tengo a dirlo perché comunque l'Atalanta ha fatto una buona partita secondo me, poteva uscire fuori pure un pareggio e secondo me l'Atalanta non avrebbe rubato nulla è stata una bella partita, sempre aperta, sempre aperta però oggi decisivi sono stati Ciaranoglu dal dischetto glaciale e poi Lautaro che non sbaglia l'unico pallone importante ricevuto la butta dentro ancora una volta, dopo due partite di fila senza segnare è arrivata alla terza partita segnato mi raccomando se siete nuovi iscrivetevi al canale, vedo che molti di voi che guardano i miei video non sono iscritti non vi costa nulla, iscrivetevi che è gratis, a me fate un favore enorme se voi vi iscrivetevi aiutatemi a raggiungere questo traguardo, ovvero quello dei 3000 iscritti vi prego iscrivetevi e attivate la campana per rimanere sempre a giornata tutta quanta la settimana vi ricordo che prima è uscito il post partita di Napoli, è stato visto veramente da pochissime persone ci tengo, fatemi questa cortesia e recuperatelo, ve lo lascio qua sotto nelle schede a fine video e voglio sapere la vostra sotto nei commenti come al solito, chiacchieriamo, ditemi che ne pensate sulla partita sulla classifica e dopo andrò a leggere vi vado innanzitutto ad analizzare la partita quella che è stata oggi è stata una partita come ho detto equilibrata, a tratti meglio l'Atalanta, a tratti meglio l'Inter comunque l'Inter ha avuto sempre quel... è stata incisiva ha avuto diciamo meno palloni rispetto all'Atalanta però quei palloni che ha avuto li ha concretizzati tutti e appunto 10 tiri da parte dell'Inter, 4 in porta, 2 gol l'Atalanta 14 tiri, 4 in porta, 1 gol solamente l'Apre appunto, il primo gol arriva al quarantesimo ma prima del gol ci sono state altre occasioni in cui Musso si fa trovare pronto soprattutto Musso si fa trovare pronto e anche Sommer su un'intervento della difesa dell'Inter che è stata abbastanza ordinata soprattutto Pavard che stava facendo una buona partita ma poi si deve uscire, cambio forzato per Inzaghi al trentatresimo esce Pavard per infortunio si teme un infortunio abbastanza serio per il momento quello che si sa è un forte trauma contusivo al ginocchio, bisogna un attimo vedere poi gli esami strumentali esce fuori per infortunio l'Inter Darmiane che fa una buona partita anche lui la sblocca praticamente dal dischetto dopo 7 minuti dall'uscita di Pavard arriva il gol di Charanoglu dal dischetto errore qui da parte di, non mi ricordo chi è che ha fatto il fallo da parte di Deron se non erro no, non è vero vabbè, errore difensivo da parte dell'Atalanta non mi ricordo chi ha fatto l'errore ma comunque errore difensivo ah, uscita di Musso, uscita di Musso che va qui compie l'errore dopo che era stato protagonista all'inizio del primo tempo poi fa appunto questo errore in uscita va direttamente su Turam se non sveglio stand Turam, non mi ricordo chi è stand è un giocatore nero azzurro mi pare che era Turam e dal dischetto si presenta appunto Charanoglu ah no, era Lautaro stand è Lautaro e dal dischetto va a Charanoglu glaciale perché la mette all'angolino il portiere la intuisce ma non ci arriva perché era troppo tirato bene sappiamo che è uno specialista Charanoglu e segna il gol di 1-0 la cosa che fa ben sperare è che nel gol di Charanoglu c'è anche Pavard che va a esultare insieme a Charanoglu quindi fa ben sperare il fatto che non sia serio o serissimo ecco insomma potrebbe in realtà sicuramente saltare le prossime partite ma potrebbe tranquillamente rientrare dopo la sosta speriamo che ce l'hanno in un fantacalcio giustamente spero che non sia un infortunio serio anche per il bene del giocatore insomma vedete i giocatori che si rompono è sempre brutto da vedere speriamo non sia serio insomma poi la praticamente raddoppia l'Inter al 57esimo pallone perfetto di Mkhitaryan c'era stata un'altra occasione se non erro da fuori aria c'è stato un gol annullato a Lautaro Martinez sul tiro di De Marco deviato tira dopo Acerbi su questo tiro di Acerbi c'è Lautaro che sta leggermente fuori gioco colpo di testa ma il gol non viene convalidato e poi arriva il gol questa volta convalidato giustamente palla di Mkhitaryan vede l'inserimento di Lautaro e trova il gol del 2-0 Inter quindi dopo torna a segnare Lautaro dopo due partite che non segnava e poi ragazzi e poi ragazzi l'Atalanta comunque che non molla non molla la presa e dopo 4 minuti fa il gol del 2-1 appunto Gianluca Scamacca su questo errore di parte di Di Marco che perde palla ci poteva stare forse il fallo non lo so comunque l'arbitro non l'ha dato quindi il VAR non ha confermato il fallo su Di Marco quindi è stato convalidato il gol la rete decisiva appunto di Scamacca palla di Lukman il gol dell'1-0 e dell'1-2 Inter segna Scamacca appunto e poi la partita termina così nel finale tra l'altro al 92esimo arriva il secondo giallo Bertoloi perché entra e si prende subito un giallo al 85esimo si prende il giallo e poi dopo al 92esimo arriva il secondo giallo e il cartellino rosso l'Atalanta in 10 e da lì in poi la partita l'Inter la blinda e finisce 1-2 per l'Inter la classifica recita appunto l'Inter attualmente prima da sola anche con la vittoria della Juventus o del Milan rimanerebbe comunque prima da sola a 28 punti ragazzi 9 vittorie un pareggio una sconfitta secondo me l'Inter sta a fare un campionato pazzesco ha praticamente subito solamente 6 gol in assegnate 27 una roba assurda e mentre l'Atalanta rimane bloccata al quinto posto a 19 punti quindi non scavalca il Napoli e rimane così la classifica fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento lasciate un mi piace se siete iscritti iscrivetevi da già per tutto e noi cosa c'è un prossimo video beh ragazzi sempre comunque forse il calcio bella vamos ciao belli iscrivete bella